Si chiamava PC5150, è il primo computer a essere definito personale e farà la storia dell'informatica. Influencerà tutta la categoria di calcolatori prodotti per essere utilizzata a casa e negli uffici. Costa poco più di 1500 dollari, lo lancia l'IBM il 12 agosto del 1981 a New York. Aveva un processore Intel a 477 MHz e il sistema operativo QDOS. Ricordatevi questi nomi, Intel e DOS, perché legato al grande successo dell'IBM che conquista il mercato dei personal computer, si affermeranno due nomi che non dimenticheremo più nei decenni successivi, la Microsoft di Bill Gates e la Intel. La pubblicità diceva IBM è orgogliosa di annunciare un prodotto che vi può interessare, è uno strumento che arriverà presto sulla vostra scrivania, nella vostra casa, nelle classi dei vostri figli. Farà la differenza sorprendente nel mondo del lavoro, della scuola e in qualunque approccio alle complessità e anche nel semplice piacere della vita. È il computer che stiamo creando per voi. Aveva due grandi floppy disk come unità di memoria e uno schermo con tanti caratteri verdi.